Iniziative in tutta Italia per la prima edizione del Dante D, il giorno dedicato al sommo poeta Gianni Maritati. Io leggo Dante. Io leggo Dante. Io leggo Dante. Dante corre sul web e diventa nostro contemporaneo. I ragazzi e le ragazze dell'Istituto Statale Vittorio Gaspa di Roma. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diretta via era smarrita. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese e costruite la bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende. Il primo Dante D coinvolge ed entusiasma tutti. Le scuole mettono in rete ciò che hanno realizzato prima dell'emergenza. Disegni, poesie, perfino l'interrogazione di un giovanissimo sommo poeta. E poi su Rayplay le letture più famose. Sul canale YouTube del Ministero dei Beni Culturali i contributi degli esperti. Dante ha scritto la nostra storia. In rete una valanga di video, commenti, immagini. Dice il ministro Franceschini, Dante è l'idea stessa di Italia. Abbiamo bisogno di tenerla viva. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a vivere come i bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. La lotta degli italiani...